Siamo i signori, buonasera e benvenuti qui nei studi Telefriuli a Il Punto. Dunque, abbiamo qualche novità politica, abbiamo Cecotti, l'ex Presidente della Giunta regionale ed ex Sindaco di Udine, che torna in pista con il patto per l'autonomia, patto dell'autonomia e che lancia anche Valcic come Sindaco di Udine. Il centrodestra ancora è senza candidato a Presidente e il centrosinistra, invece, Bolzonello chiude l'accordo con i cittadini. Poi abbiamo la carella del periodo dove in qualche modo i 5 Stelle sono sotto l'occhio del ciclone per questi rimborsi elettorali. Di fatto, questi rimborsi elettorali aprono un po' la fase, una riflessione sui costi della politica. Ma noi questa volta, invece dei costi della politica, affrontiamo un argomento diverso sull'identità, sulla cultura e per farlo ho invitato l'amico Federico Rossi, che è Presidente del Mittelfest. Benvenuto Presidente, ci diamo del tu, perché ti conosco da molto tempo, ti stimo, per cui ti ho voluto fermamente intervistarti perché so che qualche novità tu ce la darai. Allora, Mittelfest è nato nel 1991, è nato dopo la crisi dei paesi comunisti dell'Est, è nato in un contesto, diciamo così, che possiamo anche dire dopo Alpe Adre, che ha segnato un po' anche gli eventi, ma Mittelfest ha dato una spinta molto forte. Ecco, Presidente, tu ti definisci un po' l'artigiano della cultura, ti definisci, però sei un testimone forse inconsapevole, forse consapevole dell'identità friulana. E che cos'è oggi Mittelfest? In tanti saluti, Lucia, grazie per chi sti invito, non so se voi sti vieni là pari Furlanche, insomma, a Tere Friuli, alle Friuli, per cui abbiamo più lingue in Friuli, no? Dopo, caso mai, provo io. Bene, allora voi, in Tere Furlanche, cercate voi il Mittelfest. Intanto, no, di piedi la sua vocazione originaria, che è proprio te, come ti lo dite, che è nascuta dopo la sdromata dal mur di Berlino, dalla cortina di ferro, in che volte questa Europa, che avveniva fuori di un clima cupo, di una buona fredda, si tratta di liberare energie che in parte hanno avuto una canalizzazione positiva, in parte si avviene attraverso i Balcani, c'è quello che è successo lì, e hanno avuto anche delle daiesi, dicate, drammatiche e tragiche. E si trattava di, attraverso il Mittelfest, di far partecipare il Friuli e la Regione a un progetto di ricostruzione dall'Europa, di una vera Unione Europea. E voi, dopo passi 25 anni, avete detto che il compito di Mittelfest è di grande attualità, è di grande necessità, perché magari così no, rispetto all'utopia, all'insieme, al sogno di un'Europa Unida è subentrata invece della disillusione, che hanno vincito la burocrazia, hanno vincito le forze di carattere finanziario, hanno vincito i Stas, i Stas, così la massa nazionale, con le loro logiche, e hanno anche la fonda di una unione del nostro continent, che avresti di essi, soprattutto una fonda basata sui valori storici, non per il lavoro, ma sul recupero dei migliori valori che storicamente vengono realizzati, e su quello che noi possiamo inclamare alla fonda è culturale, dalla diversità di queste grandi richieste di culture, di lingue, proprio di identità che caratterizzano il mosaic dell'Europa. Ecco, il Friula è l'Europa, no? Il Friula è una cultura, mentre l'Europa è, per cui noi siamo già portati verso questi paesi, siamo ben predisposti, e qualche volta, no, le burocrazie, tra virgolette, romane, ci danno un po' di fastidio. Ecco. E il Friula, in questi momenti in Europa, c'è giù poi dal fatto, c'è contesto, in quel contesto puoi entrare, dobbiamo cercare la simile di identità delle culture, che sta unendo un po', anche un idem sentire, perché anche se cercare il Friula, si cercare anche, non l'ombra dell'engra friulare, ma molti essi, insomma, no? Sì, sì. Ma per cercare un Friula in tutte le prospettive europeane, vieni ti ricordi che è stata nella sua storia, e Pier Silverio Light, che è un'importante storica furlan di diritto, no? Un uomo di grande cultura, ha detto che, da raro, le vicende storiche del Friula sono vicende di carattere locale, ha detto che quasi sempre ha fatto un parla, si interconnettano con le grandi vicende europee. E il Friula, alle europee, proprio per questo, no? Parisi dentro, tra queste crozere, dove si incontrano, e storicamente si sono anche scontrati le grandi culture dell'Europa, e per di poi noi siamo in questa micro-Europa, perché i vini, proprio tra gli testimonianci svivi, dalla città latina, con la lingua furlane e la lingua italiana, di che slovene, di che slavia attraverso la lingua slovene, le sue varianti, e anche di che tedesche. Ecco, io credo che la proiezione del Friula in Europa vuole poi essere importante attraverso la cultura, e penso che il mito sia un strumento strategico di questo punto di vista. Anche poi comunità, poi voce, no? Attraverso sicuramente la pluralità dagli voce. Però il Friula e la regione hanno anche di proiettarsi, dal mio punto di vista, con un sforzo sempre più sistematico, sempre più determinato in tali relazioni di carattere economico, culturale e anche politiche, con le realtà che sono attorno. di noi. Torna a fare un po' di politica estera, in sostanza. Torna un momentino a avviarsi, no? Si arassi, no? Perché mi pare che in un periodo veniva un po' buio in questo momento, perché le politiche mi pare che arranche, non ci sono più bui voce, no? Ecco, il potere dell'arte, come si dice, il potere della cultura. Poi di qualche momento arriva a dare una spinta della politica in questo senso ad aprirsi, a confrontarsi, ad andare al di là dei propri orizzonti che sono in questo momento molto labili, insomma. un sociolico e filosofo internazionale che non si ha lasciato in lavoro, che è Sigmund Bauman, ha detto che l'Unione Europea può essere rilanciata da partire dalla sua cultura, a partire dall'arte e dalla cultura. La cultura è per eccellenza con fronte, dialoghi, curiosità con fronte dell'arte, accettazione di quell'altro, considerazione che le diversità sono un elemento fisiologico fondamentale, vital, no? Come richieste di un ben, che dopo diventa un ben comune dal rispetto di tutti, ma anche dalla condivisione di valori. E io penso che l'arte attraverso i poeti e attraverso anche l'arte visibile. Adesso i artisti pensi che può aiutare a intercettare soluzioni, visioni, orizzonti che in questo momento fanno fatture e avviati. E penso che l'arte può aiutare a lavorare di questo grande tunnel che in questo momento si sono infilati. Ecco, mi pare che come ho tutto, hai snominato un direttore che l'è bosniaco o sbaglio? Sì. Ecco, l'idea è quale state? Sì, di qualche anni, di qualche mese in che proprio dopo dalla precedente direzione abbiamo deciso di orientarsi, soprattutto a un rilancio dal Mittelfest dal punto di vista proprio della sua internazionale, per farlo diventare, diciamo, un festival che sia il più importante o fra le più importanza, al manco della Mitteleuropa. E vengono individuati questo uomo di cultura, un grande intellettuale, che è anche un uomo di teatro, lui è un regista teatral che si chiama Haris Pasovic e che è un musulman laic di Sarajevo, che quando Sarajevo era assediato dai primi anni 90, 30 mesi sotto la sede, ecco, lui insieme con altre persone, con altre realtà di Sarajevo, a fare una cultura per contrastare proprio te, che è l'odi etnici e la disfatti dalle diversità, in qualche maniera. Ecco, tu però tu sei stato anche il fondatore dei colonos, no? Che io volevo domandarti appunto, c'è molto che queste tue creature io un momentino nascute, sviluppate e mi pare che è un posto di rilievo in questo momento, no? Ecco, fermare un momentino dei colonos, se con te c'è molto che si sviluppa le robe come diciamo. Sì, sì, beh, lo faccio volentieri, ma se Mittelfest diceva che la musa internazionale europeana, di che identità, che è un'identità europeana, i colonos dicono che altre musa, che l'altro ha spietto fondamentale, che sono le identità nostre, in particolare l'identità furlane. Noi abbiamo chiesto questo complesso colonico, rural, vecchio, quello si è ispirato, potete, a ricongiungersi col passato, a non buttarlo via, che è un errore, perché questo voleva dire che aveva un senso, aveva un'identità nel presente, ma non è restato prisionevo, allora la sfida dei colonos è stata che, come all'insegna, da dire un progetto furlante, di arrivare a coniugare, di arrivare a a far convivere in maniera positiva, c'è chi si sta, con c'è chi vuole, affrontare le sfide di questo momento storico che il frio ha affrontato, le grandi immigrazioni, la crisi economica, una crisi anche di modello sociale e di valore, una cosa importante. Se perché una crisi economica ti ha dei riverberi anche nel mondo della cultura, dell'identità, no? E' sicuro, queste... Pese tantissime. Sono incrociate, queste dimensioni. sono incrociate. E mettete, ecco, insieme così passate, per esempio, per te ci rindiciamo in davanti, ci rindiamo delle soluzioni per un frio che non sappiamo come sarà. Ecco, la regione ha fatto tanto, anche i Comunx, anche Civitale, eccetera. però ci potresti fare qualche idea che magari tu tu hai nel cassetto, magari te lo sveli un momentino così. Nella regione ci potresti fare di più di ci che fanno? Ma, per quello che riguarda il friullo, io direi che io vengo a capire che cosa si chiama identità è una realtà complessa, anche ambigua qualche volta, che va trattata di se vuole delicatamente, ma che non va ridotta da me a un'idea di lingua e di cultura come uno dei tanti settori che in qualche maniera vieni di valorizzarlo e vieni dai spazi. Magari per contentare che quattro fulani o che le persone si impegnano di stare a lingua della cultura è fulana. La regione ha di capire che le identità linguistiche e culturali nella regione sono l'essenza della regione e invece un'eclave di sistemi per affrontare tutto che gli altri sono spiegi dalla vita collettiva. Cioè, avresti un po' il motore, in sostanza. Avresti il motore di tutto, non di settore, avresti un'eclave di sistemi, come si dice. Allora, l'esercitazione è finita praticamente. Io ti auguro ogni bene per qualche tua attività dal Middlefest, ma anche per il resto, insomma. Io spero che magari tu torni ospite che magari per contare altre cose dal Mount Furlan e dal Middlefest in particolare. Torni volentieri, grazie per questo invito. Bene, allora io passo la linea senza tolarete. Buona serata. Grazie a tutti.